Buonasera, bentornati, ultimo battito di cuore sportivo, non solo di oggi ma di tutta la settimana. È stata un'altra bella settimana intensa che abbiamo trascorso insieme. Beh, partiamo dalla Serie D perché il Noto sarà regolarmente in campo domani contro la Gioiese. Ieri insomma ve l'avevamo raccontato, problemi economici per la squadra siciliana che però in fretta e furia ha organizzato la trasferta sul campo della Gioiese. Si gioca regolarmente ma il match clou è il super derby, tutto a Cosentino tra il Montalto e il Rende. Partirà regolarmente per Gioia Tauro. Il Noto, dopo la clamorosa protesta dei calciatori, Rizza e compagna hanno deciso di andare avanti comunque. Così la società o quel che resta della società ha allestito la trasferta calabrese per evitare di complicare ulteriormente le cose. Non presentandosi domenica in campo, infatti, la squadra siciliana avrebbe perso la partita a tavolino e subito un punto di penalizzazione in classifica. Situazione che farà scontento qualche tifoso della Gioiese ma che rasserena tutto il movimento calcistico di Serie D, compresa la società pianigiana, pronta a dare battaglia. Nella tredicesima giornata del massimo torneo di lettanti fa ripuntati però sul derby, tutto calabrese, tutto cosentino tra Montalto e Rende. La formazione di Alto Mare, rinvigorita dal successo d'ufficio domenica scorsa a Capodorlando, punta sul fattore sorpresa per bloccare i cugini biancorossi, reduci da cinque risultati utili di fila. Un ruolino di marcia che ha permesso ai giocatori silani di superare anche l'interreggio in classifica. I reggini cercano i tre punti a domicilio sul campo della giovanissima Leonfortese, operazione e sorpasso per il Roccella impegnato sul manto erboso del Neapolis. Si gioca quindi la giornata numero 13 a Serie D, con l'aiuto della grafica andiamo a vedere il programma completo. E allora si parte con Agropoli, Marcianise, Acragas, Tiger Brolo, Battipagliese, Torrecuso, Montalto, Rende, due Torri, Orlandina, Leonfortese, Interreggio, Gioiese, Noto. Quindi si giocherà, Sorrento, Frattese e chiude il quattro il Neapolis contro il Roccella. Andiamo in eccellenza, è sempre più infuocato il campionato di quinta serie in campo la dogesima giornata. La sfida a distanza tra Palmese e Vibonese continua. Un turno che potrebbe avvantaggiare il rosso-blu di Vibo attesi sul campo del Corigliano. Sarà scontro al vertice invece tra i nero-verdi di Palmi e il Gallico-Catona. Prima e seconda forza del torneo. I ragazzi di Maria tifano quindi per il pareggio un risultato che gli permetterebbe in caso di successo a Corigliano appunto di rosicchiare due punti ad entrambe in classifica. Quadro completo del programma della dodicesima giornata di eccellenza anche qui con l'aiuto della grafica. Lo riassumiamo insieme. Brancalone-Bocale, Corigliano-Vibonese, Cutro-Tauria-Novese, Guardavalle-Paolana, Palmese-Gallico-Catona, Sambiase che ha festeggiato il nuovo tecnico contro il Castrovillari, Scalea-Acri e poi Sersale contro Isola di Capo Rizzuto. Chiudiamo con il basket, torna la Serie 2 maschile, si torna in campo domani per la decima giornata. La Viola-Reggio cerca gloria al Palamaggetti contro gli squali di Roseto. E' partita oggi la squadra nero-arancio alla volta di Roseto dove domenica pomeriggio affronterà gli uomini di Coach Trullo. La squadra abruzzese non ha avuto un andamento positivo durante questa prima parte di campionato perdendo cinque partite consecutive. I quattro punti in classifica sono frutto delle vittorie contro Treviglio e Matera con pagini battute dai bianco-azzurri tra le mure del Palamaggetti, impianto che ospiterà Ammannato e compagni che dovranno dal canto loro fornire continuità di risultati dopo la bella vittoria ai danni di Legnano. In certo l'utilizzo di rasce dispera, il primo ancora alle prese con qualche fastidio alla caviglia, il secondo ha effettuato dei controlli medici in settimana. Entrambi comunque sono partiti insieme ai compagni per affrontare gli squali. Lo abbiamo detto più volte e lo stiamo riscontrando ormai partita dopo partita. La Silver quest'anno è un torneo estremamente competitivo in cui non sono concessi cali di tensione contro nessun avversario. Parole di Coach Benedetto che invita i suoi a mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare nessuno. A Roseto in particolare, ha continuato l'allenatore della Viola, sarà decisiva la condizione psicologica, fisica e tecnica con la quale ci presenteremo. Come nel nostro caso, l'ambiente rosetano è ben consapevole del prestigio della propria piazza e riesce a trasferire in campo una grande energia. Non dovremo avere incertezze nell'approccio alla gara, cercando di essere lucidi nei momenti decisivi. Bene così, con il basket è davvero tutto e allora non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Se volete ci rivediamo lunedì intorno alle 12.50 per la prima edizione di Laci Sport, lo sport con la C maiuscola. Grazie, dalle sue buon passo.